Ucciso da un'operazione aerea in Siria, nella periferia della capitale Damasco, la televisione di Stato ha confermato Zahran Al-Lush, uno dei leader di Al-Jaish al-Islam, considerata da molti una coalizione estremista. Jaish al-Islam, o esercito dell'Islam, è una sigla che racchiude diversi gruppi salafiti e si oppone al presidente Assad, ed è molti paragonata per violenza allo Stato islamico. Anche altri capi del gruppo sarebbero morti.